La decide il solito Malcore che dopo una partita bellissima e senza troppi tatticismi segna nel finale di gara spedendo al turno successivo il Casarano ma tante buone indicazioni arrivano dalla Fidelis in formato completamente rimaneggiato e che si accende nella ripresa recuperando i due gol di svantaggio e sfiorando più volte il gol del sorpasso alla fine e 2-3, tanto turnover e volti nuovi per i due tecnici ma moduli speculari con il 4-3-3, Cagliazzo, Perez o Pola in avanti per la terza che manda tra i titolari anche Biagge e Milicevic quasi mai impegnati in stagione e sordi invece per Giampa e Brezzo nella Fidelis con Scaringella che sceglie Iallo, Marsico e Fellica per l'attacco gara subito con ritmi buoni e le prime schermaglie arrivano prima con Gladestoni, palla sul fondo e poi con Perez tiro alto Guastamacchia con la testa non inquadra lo specchio della porta ma l'occasione buona arriva dopo 10 minuti per la Fidelis azione tutta di prima in profondità con la Monica che calcia da ottima posizione, deviazione in corner della difesa ospite Brezzo blocca a terra un tiro di Opola centrale al 27esimo, poi arriva il gol che sblocca la gara Cagliazzo conquista palla a destra, proteste Fidelis per un presunto fallo, cross al centro e Opola anticipa tutti spedendo il pallone sul palo interno gol del vantaggio che la Fidelis subisce, soprattutto da un punto di vista psicologico il Casarano ne approfitta per trovare subito il raddoppio Perez in ripartenza rientra sul destro e lascia partire un tiro a giro che sorprende Brezzo 2 a 0 e squadra di casa che prova nel finale a riaprire il match, ci prova imputato con un tiro alto su di una palla in uscita dopo un calcio di punizione battuto da Fellica, molto più pericolosa l'azione costruita in solitaria da Iallo che predilige la potenza più che la precisione, attento a lui il portiere del Casarano che si supera anche sul tiro ravvicinato di Fellica da sinistra alla fine del primo tempo è però 0 a 2 per gli ospiti che iniziano meglio anche la ripresa prima con il tocco ravvicinato sul fondo di Opola, sugli sviluppi di un corner poi con il tiro alto di Dalena, direttamente su calcio di punizione la prima occasione Andrea la costruisce Iallo con il cross in aria che è imputato tocca male di testa al tredicesimo, poi ecco il gol che accorcia le distanze il cross su calcio di punizione di Fellica ed è perfetto l'anticipo di Ferrara che batte a lui gara che cambia completamente, Fidelis decisamente più in palla Iallo tiro al volo, palla deviata in corner, Giampà sugli sviluppi, anticipa tutti si salva la difesa ospite, dentro anche lo iodice Malcore nel Casarano e Cragole da Silva per la Fidelis e la squadra di casa all'alba della mezzora trova il pari, la Monica raccoglie un pallone in aria e batte a lui per il suo primo gol stagionale con la maglia bianca azzurra il gol galvanizza ancora di più la Fidelis che protesta per un contatto in aria tra versi enti e Fellica tutto regolare per il direttore di gara e Malcore poi a girarsi bene in aria con Brezzo bravo a intercettare la sfera a terra ma a 5 minuti dal termine ecco il gol che decide il match Malcore si libera al limite dopo un rimpallo e batte Brezzo in uscita quarto gol stagionale per l'attaccante del Casarano ma non è finita perché la squadra di casa costruisce l'azione giusta per il pari sempre con Fellica, tiro finale di Cragole che a lui devia sui piedi di Iallo il cross è però preda della difesa ospite, non c'è più tempo il Casarano passa e domenica dovrà affrontare il derby salentino con il Nardò per la Fidelis, buone indicazioni e sfida casalinga contro Lischia